Sindaco, giunta nuova, vita vecchia, perché poi i problemi si sono ritrovati. Vecchio stadio comunale, il campo dell'Acquaviva dove la Teramo Calcio lamenta, ne lamenta l'utilizzo, il mancato utilizzo, insomma da dove si può partire? Partiamo dall'Acquaviva, chiaramente durante la campagna elettorale qualche piccolo ritardo si è accumulato, ma proprio la settimana scorsa c'è stata l'approvazione del progetto esecutivo, quindi in questa settimana il progetto va in gara, cercheremo di abbreviare i tempi più possibili e l'obiettivo è comunque per settembre di avere il campo pronto. A proposito della Teramo Calcio e del Presidente Campitelli, ieri nella presentazione della campagna abbonamenti si è lamentato della lontananza degli imprenditori teramani, della politica teramana dal Teramo. Sulla lontananza della politica teramana sono certo che il Presidente Campitelli non si riferiva al sottoscritto, perché la mia porta nei cinque anni passati è stata sempre aperta alla Teramo Calcio, non solo alla Teramo Calcio, ma a tutto lo sport teramano. Lo è stato anche in quest'ultimo periodo e quindi sono certo che il Presidente non faceva riferimento al sottoscritto, perché io voglio bene la Teramo Calcio, voglio bene lo sport teramano. Sul vecchio comunale e sul polo scolastico Romanelli cosa ha fatto? Una falsa partenza? Ma no, anche da parte dell'opposizione, polemiche assolutamente strumentali, noi abbiamo questo spazio che è uno spazio che sicuramente va riqualificato. C'era stata una proposta in primavera attraverso il piano strategico che aveva lanciato un'idea, quello di un recupero attraverso un parco urbano di quello spazio. Romanelli ha sempre avuto in mente, è stato un suo pallino quello di realizzare il polo scolastico in quella zona, la nuova programmazione fatta nel quinquennio precedente, lo vedeva sempre in quella zona, ma magari più in vicinanza del lungo fiume. È un discorso sul quale dovremo confrontarci, ci dovremo confrontare in maggioranza, ci dovremo confrontare con la città e ci confronteremo con la città attraverso degli incontri tematici che subito dopo l'estate partiranno. Sarà Enrico Mazzarelli il futuro presidente della TEM? Ma guardi, a me non piace parlare in questo modo delle persone, ci sarà un bando, verranno inviati dei curriculum, ci sarà un'attenta valutazione dei curriculum, tutti possono partecipare ovviamente e la mia scelta sarà una scelta così come ho sempre fatto nell'unico obiettivo che è quello del pubblico interesse.